Ma quanto l'abbiamo pagato? È un po' gracilino. Come già sai, inizierà nella nostra primavera. Sei un calciatore ora. A questo livello, talento, tecnica, velocità, sono tutti secondari a qualcos'altro. Una disperazione negli occhi che dice, preferirei morire che fallire. Certo che devi essere costato parecchio. Perché? Perché ti detestano già tutti. Nei tuoi occhi, Martin. Ho visto qualcuno pronto a fare dei sacrifici per ottenere quello che vuole. Noi ti abbiamo dato la chance che ogni ragazzo sogna. Non sprecarla in questo modo. Grazie.